L'obiettivo dei migliori binomi sardi è quello di spostare Giovanni Carboni che su Rubacuore Baio ha vinto i titoli regionali di salto ostacoli nel 2021 a San Leonardo, nel 2020 a Golfo Aranci. Da giovedì alle ore 11 partono i campionati sardi di salto ostacoli assegnati al centro ipico e Salinos di Maracalagonis e organizzati insieme alla Fise Sardegna. Ben 250 i binomi iscritti, per questo i campionati sono stati spalmati su quattro giornate, da giovedì 2 fino a domenica 5 giugno. Anunciati tutti i big o quasi che proveranno a conquistare il titolo di campione sardo, a cominciare da Gian Leonardo Murruzzo, vincitore nel 2015 e secondo l'anno scorso. Nonché trionfattore al Gran Premio del Sardinia Jumping Tour, in Lizza pure Luigi Angius, Antonio Murruzzo, quarto l'anno scorso, Piero Pala, Giovanni Onnes e Andrea Rossi. Il titolo assoluto prevede tre prove, venerdì la prima manche su ostacoli alti 135 cm, sabato e domenica altre due manche su ostacoli di 140 cm. In palio anche il campionato di primo grado e campionati brevetti per senior, junior e sepponi. In tutto un centinaio di gare che comprendono anche i trofei con ostacoli da 80 a 130 cm, trofei ludici. Il monte premi totale di 15.500 euro e più di un terzo va al campionato sardo assoluto. Sarà stilata anche una classifica tra tutte le società rappresentate ai campionati. I binomi si confronteranno nel campo in sabbia 95x60 del centro di Salinos, lo show director e Roberto Rossi, mentre i percorsi con gli ostacoli sono disegnati da Giovanni Busso.